E così tu, andando tena via, mi dicesti di una roba e il sant'è. Ma come hai potuto dirlo? Come hai potuto farlo? Abbiamo condiviso tutto per tanto tempo. Non siamo stati semplicemente insieme. Quello che si può fare con chiunque uscirà a sostenere una finta conversazione interessante. Fingere di divertirsi, oppure di essere felici. Ma condividere non è così scontato. E così tu, andando tena via, mi dicesti di amaro per sempre. Ma condividere non è così scontato. Nonostante oggi giorno, lo utilizziamo costantemente come termine. Condividere una foto, un pensiero, un'esperienza. Condividere per me è altro. Abbiamo condividere i nostri silenzi, forse troppi mattonelle che giorno dopo giorno sono diventate, sono diventate un muro altissimo. E così tu, andando tena via, mi dicesti di amaro. Per sempre ti amaro, per sempre ti amaro, per sempre ti amaro. Ti amaro, per sempre abbiamo condiviso il peggio di noi. Grazie. 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 Grazie.